Io sono Tecla, io sono Tecla Olius, ma non te lo ricordi. Vedete, noi mandiamo anche questa, perché così impari a trattarmi male. La dottoressa Rossi ogni volta che arrivo mi tratta male. Lei è una persona squisita, quindi fuori dalle telecamere la tratto male anche io, ma per scherzo. Questo signore invece che ho qui accanto a me è un artista, giusto, si chiama Pelini e fa parte di una serie di artisti che all'interno della Fraternità dei Laici del palazzo che ospitava, tanto per intenderci prima, il Tribunale in Piazza Grande ad Arezzo, fa parte di questa mostra. Che cosa rappresenta e a cosa è tesa questa mostra, Gabriele? Allora, questa è una mostra internazionale sulla corrente del riflessismo. Infatti Giovanni Pelini ha organizzato questa mostra invitando degli artisti internazionali e queste opere sono state, alcune di queste opere saranno regalate a Tecla. Infatti Tecla è la nostra associazione... È la tua Olius e io so che cosa... L'associazione di tante persone, perché adesso abbiamo tanti amici di Tecla, sia ad Arezzo che a Roma, che fanno dei progetti sulla Sierra Leone. Il progetto adesso che ci teniamo il più, il progetto più importante, è la formazione alla Scuola Infermieri di Cabala, che è un paese della regione di Conaduco molto arretrato perché noi crediamo che la formazione è uno strumento per far crescere la sanità e per ridurre la mortalità materno-infantile. Ecco appunto, questi artisti doneranno un'opera, ogni artista dona una o più opere a Tecla e Tecla ha fatto una sottoscrizione con i biglietti di 5 euro, una sottoscrizione interna e ci permetterà di raccogliere dei fondi per mandare avanti questi progetti. Andranno su questi progetti, vi faccio presente che parliamo della parte più povera del mondo dove un bicchiere d'acqua è oro e dove un infermiere può salvare tante vite. Quindi è con onore che Giovanni Pelini porta questa opera, un'opera hai donato tu? Che è questa poi esposta? Sì, non è cotesta, comunque ho donato un'opera che fra quelle che sono presenti che si chiama Solidarietà, il titolo è fatto apposta proprio per questa iniziativa. È una serie di, come diceva Gabriella, è una serie di artisti che fanno parte della stessa corrente artistica e il riflessismo dove tendono a mettere in evidenza le negatività dell'individuo e quindi da qui la sensibilità a voler aggregarsi per poi donare per i bambini della Sierra Leone il ricavato delle opere donate. E fra le altre cose c'è in evidenza, tra le negatività dell'individuo, c'è in evidenza alcuni aspetti della violenza sulle donne c'è stato anche un dibattito collaterale su questo. Vi invito a essere presenti perché fino a domenica potete visitare nel bel palazzo della Fraternita dei Laci questa esposizione di questi sette artisti internazionali. Io voglio concludere ringraziandoti e facendoti un in bocca al lupo come al solito dicendo a voi che ci seguite che vedete che per fortuna c'è della gente così come loro che fa da contrapposto, da contrappeso, da contraltare a chi vuole comprare i cacciabombardieri e spende miliardi e miliardi di euro senza rendersi conto che ci sono dei bisogni che dovrebbero venire in una società democratica e normale, non voglio dire eccezionale, normale, un po' prima. Ti posso dare un bacio in diretta? Che onore, grazie a te, grazie.